Associazione per derinquere finalizzata allo sfruttamento della mano d'opera. Forza lavoro destinata alle campagne venete, vicentine, veronesi, padovane per la raccolta di verdura, ortaggio nelle stalle. Un vero e proprio sfruttamento di mano d'opera immigrata, per lo più di origine marocchina, costretta a 12 ore di lavoro, alloggiata per eludere eventuali controlli in baracche fatiscenti, senza servizi igienici e riscaldamento. E questa è l'accusa mossa ai carabinieri del nucleo tutela lavoro a tre soggetti, un marocchino a capo di una cooperativa di colonia veneta nel veronese che aveva il compito di reclutare i lavoratori, un albanese che aveva funzione di intermediario e una donna consulente presso uno studio di consulenza di Vicenza. Essendo consulente del lavoro operava al fine di consentire alla cooperativa di non pagare i contributi previdenziali IMSS. Approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori taluni irregolari, veniva loro versata una retribuzione nettamente inferiore a quanto prevedono i contratti. Ciò consentiva alla cooperativa di proporsi sul mercato agricolo ad un prezzo più che vantaggioso. La strategia, messa in campo dalla consulente del lavoro Vicentina, ben al corrente dei tecnicismi e delle procedure di addebito contributivo da parte dell'IMS, consentiva di far apparire formalmente regolare alla cooperativa, che, mutando nel tempo la propria ragione sociale, continuava ad operare indisturbata sul mercato del lavoro, rigenerandosi come una nuova società.